Stamani blitz antifrode da parte della Guardia di Finanze e dall'Agenzia delle Dogane di Rimini nei confronti dell'Associazione a delinquere specializzata in frodi Carosello, 5 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura, che ha anche disposto il sequestro per equivalente di 37,4 milioni, pari all'accertata evasione dell'IVA attraverso l'utilizzo di società e aziende fittizie, italiane ed estere, intestate a prestanome. L'accusa nei confronti dell'organizzazione che operava tra San Marino, l'Italia, la Svizzera, la Gran Bretagna, l'Austria e la Romania e di associazione a delinquere, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento, distruzione di documenti contabili. Siamo riusciti ad arrivare veramente al primo livello e soprattutto siamo riusciti ad arrivare al patrimonio perché tramite gli accertamenti economico-finanziari che abbiamo fatto con il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza siamo riusciti a trovare un patrimonio che si sta sempre più avvicinando al sequestro disposto dall'ordineo giudiziaria per 37 milioni e mezzo di euro. È una cosa che non era mai successa. Sequestrate 7 ditte, quote societarie di 47 società, una trentina tra auto e moto, titoli di debito pubblico e somme di denaro, 109 conti correnti, 30 immobili e 17 terreni. L'operazione denominata Macchiavelli ha portato a 27 indagati al coinvolgimento di 25 società. Le indagini hanno toccato Rimini, San Marino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Perugia, Volterra, Latina, Aprilia, Roma, Ascoli, Piceno, Pescara, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria e Catania.